La marina governa le navi. L'esercito pensa ai missili. Capitano Collins ha rapporto, signore. Da qui tutti vorrebbero fuggire. Solo i nostri Interceptor ci possono difendere da un attacco nucleare. Abbiamo un problema. Rimozione non autorizzata di missili. Che succede lassù? Siamo sotto attacco! Te la senti? Non pensi a me, signore. Interceptor, cos'è successo? I terroristi hanno preso la piattaforma e ora vogliono il centro di comando. Ho rinchiuso o ucciso chiunque si trovasse su questa piattaforma. E abbiamo il controllo di 16 missili nucleari. Devo disabilitare il centro di comando, quindi io entrerò. Vuoi questa stanza? Vieni a prenderla. Non abbiamo il tempo di evacuare le città. Difenda quella stanza. L'ha ucciso infilandogli la pistola nell'occhio. Sono io che comando! Vuoi uscire da qui vivo. Ma non si mette bene per te, è vero? Avevi previsto ogni possibile risultato. Ma non avevi previsto me. Grazie a tutti. Grazie.